Uno sguardo approfondito sulla vita del più giovane degli eredi Berlusconi emerge grazie a un'analisi del Corriere della Sera. Luigi Berlusconi, figlio del defunto Magnate Silvio Berlusconi e Veronica Lario, si sta facendo un nome come il banchiere della famiglia. Contrariamente ai riflettori che hanno sempre illuminato la carriera del padre, Luigi predilige una vita più riservata. Graduato dalla prestigiosa Università Bocconi, ha affinato le sue competenze finanziarie lavorando presso J.P. Morgan a Londra e alla Sator di Matteo Arpe. La sua profonda comprensione del settore finanziario lo ha reso una figura di rilievo nella gestione degli investimenti della famiglia, specialmente nel mondo della tecnologia, di cui è appassionato. Recentemente è venuta alla luce la sua acquisizione dell'ex Villa Borletti, situata in una delle zone più esclusive di Milano. Luigi ha contratto un debito di 24 milioni di euro con intesa San Paolo per l'acquisto e la ristrutturazione di questa storica residenza, precedentemente di proprietà della famiglia Berlusconi. Oltre alla villa, ha investito in un appartamento nel cuore di Milano, vicino alla celebre Santa Maria delle Grazie. La villa e l'appartamento rappresentano un impegno finanziario significativo, con ipoteche che ammontano a 34 milioni di euro e 6,8 milioni di euro rispettivamente. Ma Luigi non è solo affari. Sposato con Federica Fumagalli, è padre di due bambini nati nel 2021 e 2022. Insieme alle sorelle, Barbara ed Eleonora, ha fondato la holding italiana 14esima. Questa holding, unita all'eredità ricevuta, controlla una significativa quota del 47% di Fininvest. Sottolineando la sua abilità negli affari, il Corriere della Sera riporta un guadagno di 12 milioni di euro da parte di Luigi dopo essersi unito al board di soldo LTD sei anni fa. Mentre lui si muove negli ambienti finanziari, i suoi fratelli, Marina e Pier Silvio, continuano a gestire l'azienda di famiglia, Fininvest e le sue affiliate, tra cui MF Mediaset, Mondadori e Banca Mediolanum. Mentre il futuro dell'impero Berlusconi rimane incerto, una cosa è chiara, Luigi Berlusconi sta emergendo come una delle figure più influenti nel panorama degli affari italiani. MF Mediaset